Chiare, dolci e fresche acque, c'è un futuro per il lago di Annone per troppi anni inquinato da scarichi domestici e industriali. Dopo aver risanato il bacino a Est, la provincia di Lecco, in collaborazione con tutti gli altri enti che si occupano della gestione dello specchio d'acqua, ha redatto un progetto per migliorare la qualità del bacino a Ovest. A oggi le cattive condizioni del fondo e dell'ossigenazione dell'acqua rischiano di provocare una moria di pesci a ogni cambio di stagione. In accordo con l'autorità di bacino dell'Ario e dei laghi minori, oltre che con i comuni di Annone, Civate, Gabbiate, Oggione e Suello, Villa Locatelli ha presentato un progetto di risanamento dello specchio d'acqua che è stato portato in regione per ottenere un finanziamento. L'intervento si pone l'obiettivo di aumentare la concentrazione di ossigeno, ridurre il carico di fosforo e garantire così un aumento del volume disponibile per la fauna ittica. La proposta di risanamento prevede un investimento iniziale di 345 mila euro e una spesa gestionale annua per almeno 3 o 5 anni di circa 75 mila euro. La provincia di Lecco, commenta il presidente Claudio Usuelli, attenta alla salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla tutela e al risanamento degli ambienti lacustri, compromessi da attività dell'uomo o da eventi naturali. In quest'ottica abbiamo predisposto il risanamento del bacino ovest del lago di Annone, abbiamo supportato altri enti nella predisposizione dei progetti di intervento su diversi laghi o torrenti del nostro territorio. Sempre nell'ambito dello stesso bando regionale, la provincia ha dunque sostenuto i progetti del comune di Lecco per l'intervento di rinaturalizzazione della foce del torrente Bione, il comune di Merate per il risanamento del lago di Sartirana, il comune di Garlate per il recupero delle proprie sponde del lago e per il miglioramento degli albi età, la quale infine il parco Valle Lambro per il miglioramento ecologico del lago di Pusiano.